qui allo stadio olimpico di Pechino due a due tra Juventus e Napoli perde palla a Marchiso sull'attacco di Berami Hiller svelto per Pandev che cerca di liberarsi con successo di Lucio da Pandev a Gargano Gargano va giunto colore del Napoli Gargano con conclusione deviata da Bonucci ed è corner per il Napoli micidiale con idee chiare nelle sue ripartenze sì Pandev ha dato palla all'esterno a Gargano e ha chiesto di nuovo palla centrale di fatti è proprio Pandev che sta parlando intanto da rivedere qui siamo già nella parte conclusiva sì c'è stato un intervento di Barzagli su Berami sì da rivedere in area di rigore della Juventus Pandev dal corner strepitoso Pandev in questa fase estiva in questo avvio di stagione Beniamino dei tifosi anche pilastro della squadra ora senza di lui Mazzari in questa sua quarta stagione sulla panchina del Napoli ma non con un Pandev così può davvero sognare il Napoli con il valore aggiunto rispetto a Cavani la forza anche la capacità di Amsic impiegato peraltro in maniera diversa rispetto alla stagione precedente e non va dimenticato vedremo poi se ci sarà ancora futuro partenopeo per Vargas e De Santis Asamoa c'è punizione per la Juventus non ha fatto in tempo a rientrare Pandev dal offside dal fuorigioco Bonucci e intanto Ammo espulso addirittura mi sembra di vedere il rosso rosso diretto per Pandev se ho ben visto evidentemente per qualcosa detto al secondo assistente qualche parola grossa che deve essere stata segnalata da Stefani a Mazzoleni espulso Pandev al quarantesimo del secondo tempo e si ritrova in inferioreità numerica il Napoli nel segmento finale della sfida Pandev va a chiedere spiegazioni ad Andrea Edoardo Stefani secondo assistente Enrico Varriale sì e da qui ovviamente non riusciamo a capire che cosa può aver detto Pandev a Stefani gli sta chiedendo credo spiegazioni su questa decisione che lascia comunque sorpresa e direi anche stranita la panchina del Napoli tra l'altro stava per entrare in signe e credo che a questo punto con la espulsione di Pandev e il Napoli in dieci e la decisione di Mazzari non può tra certo essere quella di inserire un altro attaccante insomma vedremo un po' comunque adesso Pandev sta abbandonando il campo e sicuramente l'espulsione può essere determinata solo da qualche cosa che è stata detta a Stefani Bergonzi lo sta dicendo adesso alla panchina del Napoli che però ovviamente protesta vibratissimamente sì quanto è stato possibile ricostruire qui dalla postazione telecronaca che è al la parte opposta dello stadio ha chiesto a Pandev ma che hai fatto e lui ha detto non lo so non so perché mi hanno buttato certamente Mazzoleni da dove era non può aver sentito nulla e è arrivata a Mazzoleni la comunicazione da parte di Stefani a quel punto senza esitazione Mazzoleni ha estratto il rosso ecco che Pandev dice qualcosa al secondo assistente non sappiamo cosa prima o poi inevitabilmente i problemi arrivano Zuniga tutto da decidere ancora qui a Pechino per la supercoppa di Lega Gargano Gargano per Zuniga spinge Pirlo su Zuniga protesta il Napoli protesta anche Pandeve Scintille Zuniga Ligtsteiner e ancora una volta una volta di più c'è animosità tra gli avversari per questo primo trofeo ufficiale della stagione italiana a livello di club adesso Bergonzi che è molto bravo devo dire in questo ruolo di quarto uomo che sta svolgendo oggi deve tenere a vada la panchina del Napoli che è davvero molto 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 nervosa e che protesta vibratamente anche per questa altra decisione dell'arbitro prima protestava vibratamente la Juventus adesso da qualche minuto lo sta facendo il Napoli tra l'altro tra i più nervosi continuano a parlare e a rivolgersi anche all'esterno del campo è ripreso intanto il gioco punizione per la Juventus Vucinici ha visto Vidalla ha agganciato Zuniga e ora la punizione per il Napoli giusta la tua considerazione Gianni su Giovinco è un giocatore che non ti dà punti di riferimento perché attacca lo spazio viene incontro viene a destra e va a sinistra quindi è un giocatore che non ti fa prendere riferimento sempre costante sulla stessa giocata ma ti alterna continuamente le situazioni di gioco Zuniga per Gargano mi concede qualche metro Padoin Gargano esercita il traversone mette fuori Bonucci Zuniga sono gli ultimi secondi della ripresa si rialza Zuniga c'è un contatto e ammonito per la seconda volta Zuniga c'è espulsione anche per lui si è espulso Zuniga per che era già ammonito quindi doppia munizione insomma diciamo che questa partita avrà sicuramente grandi strascichi polemici arbitraggio che in casa Napoli fa molto 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 discutere ed usano eufemismo Brito si sta protestando con il primo assistente anche Bigon che è notoriamente una una persona molto pagata e molto molto nervoso e c'è questa espulsione adesso Napoli 9 in questo finale vediamo che Mazzoleni si avvicina anche a Zuniga è andato fuori tempo su Giovinco ed espelle anche Mazzarri che si porta ridosso dell'arbitro Mazzoleni protagonista assoluto di questa partita e insomma ci sarà davvero molto molto da discutere e dunque ora anche Cavani va a chiedere spiegazioni al primo assistente ecco l'inquadratura di Mazzarri incredulo questo gesto l'ha fatto anche dopo l'espulsione di Zuniga lo ripete mentre rientra negli spogliatori così non si può giocare ha detto così il Napoli è in 9 e a questo punto un filo di senza per usare un eufemismo non può non essere avvertita peraltro su un terreno anche più pesante per la pioggia che senza soluzione di continuità è stata protagonista in questa eh serata eh pechinese ricordo che qui siamo sei ore eh in avanti rispetto all'orario italiano Gianni nella serata poco fortunato del Napoli si aggiunge anche intanto per Marchisio Marchisio per Vucinic che controlla e con grande facilità chiude il conto depositando in rete con il piatto destro Vucinic per il 4 a 2 della Juventus Vucinic mandato in campo all'inizio della ripresa al posto di Matri bucata al centro la difesa del Napoli Marchisio lucido nel controllo buono il suo inserimento perfetta l'assistenza l'altruismo nei confronti di Vucinic e sull'uscita di De Santis Vucinic appoggiato comodamente in rete grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.